Una voce infantile. Sono un poliziotto del 112. Mi arriva una voce infantile in videochiamata. Mi fa vedere una donna esanime su un letto matrimoniale. Il bambino ha visto il papà che ha strozzato la madre, che prima di essere uccisa ha graffiato a sangue il viso del marito. Perché? Commento. Perché la bassa condizione umana ha bisogno di esperienze molto crudeli che non a caso assomigliano a quelle del mondo animale da cui proveniamo.